Come del resto di tutti gli sport, vedi anche il calcio, quando ti sembra che una squadra sia sicura, non vince mai, e così anche le corse. Tanto che dal web, se uno dice vincere la Lazio con il Genova e vince il Genova, non succede nulla. Nell'Impica, se uno dà un pronostico sbagliato, passa per incompetente. Si può fare così, non è una valutazione corretta alla lunga. Quindi io dico che Tempore, se ripete l'ultima, vince. Se non la ripete, allora entrano in gioco a Pantarei e i Miralcast bene negli ultimi due ingaggi, o Anima Mundi per gli altri, devono fare qualcosa che fino ad ora non hanno mai fatto, a livello di prestazioni. Fortunatamente, almeno è il bello del nostro mondo, se no sarebbe già tutto scritto. Tanto ti dico che per ditti, Lemien prima ha avuto un piccolo infortunio, lo rivedremo prossimamente. Grazie ai partiti, Bartos è stato bravo a capire e a fermare. Noismaker va in vantaggio, subito nella prima parte gara con Temperament che si concretizza al suo interno. Poi Almaster di fuori, in terza posizione, dietro a questi anche Desperados, con i colori della scuderia Allegria. La giubba rossa è di Miralcast che va in prima linea, ancora in coda Anima Mundi, Arcangel Raphael. Parte sinistra del tracciato, Temperament, la fa davanti. Su Noismaker che all'esterno va a Miralcast, quarto attiro è Almaster. I colori di Gabriele Amato, poi Pantarei con vicino Desperados. Saltano tutti, poi abbiamo visto anche Duke is back. Salta e si gira, quindi Diagonale, Temperament, Admiralcast, Noismaker, primo ostacolo della Diagonale. Dietro a questi Pantarei, Desperados, si avvicina anche Anima Mundi, l'arancione che è a destra dei teleschermi. Poi Fangoria, ed è Temperament sempre davanti su Noismaker, Admiralcast, Almaster, Pantarei. Siamo sulla curva di fondo, Temperament sempre in vantaggio su Noismaker, Admiralcast, Pantarei, Anima Mundi, Almaster, Desperados. Quando siamo ora in Diagonale, Temperament, Noismaker, Pantarei, Admiralcast, Anima Mundi, poi dietro a questi anche Duke is back. Temperament mantiene l'andatura molto brillante alla corsa, ed è in vantaggio su Noismaker, Admiralcast, Pantarei, Anima Mundi. Con lo stesso schema, Temperament, Noismaker, sempre loro, in coda ora, Desperados, si affronta l'ultimo giro. Temperament è in vantaggio su Noismaker, Pantarei, Anima Mundi, poi Duke is back, Admiralcast, a largo, Fangoria. Temperament è sempre in vantaggio, Noismaker a destra, dei vostri teleschermi, a sinistra, Pantarei, Anima Mundi, prima di Anima Mundi, poi Pantarei. Questa è la prima linea, poi quinto è Duke is back, Temperament, ora con Anima Mundi di dentro, di fuori Noismaker. Pantarei, poi Pantarei, Duke is back, sempre loro 5, Temperament. Ah, è troppo in anticipo, si è salvato però dall'ostacolo, Temperament, Noismaker, Anima Mundi, Duke is back, Pantarei. Prova l'avvicinamento anche Archangel Raphael, tutto corda, con Temperament, Noismaker, Anima Mundi, Duke is back. Poi Pantarei che cala all'interno Archangel Raphael, con Temperament in vantaggio, rincorso di dentro da Anima Mundi, di fuori dal Noismaker, che prova ad andare a prendere, così come Duke is back, Archangel Raphael, gli altri sembrerebbero, ma uso il condizionale, siamo insieme i battuti. Temperament, deve andare di là, dall'ultimo passaggio, cerca lo steccato esterno, va di là, su Noismaker, Anima Mundi, Duke is back, Archangel Raphael, con in vantaggio Temperament, ma controllo totale, Temperament, Noismaker è secondo, per il terzo, l'Archangel alla fine batte Anima Mundi. Quinto Duke is back. La sensazione visiva e televisiva di aver davanti a voi e a noi un gran bel cavallo, Temperament, Joseph Vani ha fatto il minimo indispensabile, totale controllo, dal primo all'ultimo metro. Orlando Pacifici e Davide presentano Noismaker in buone condizioni, con un buon secondo posto. Il finale di Archangel Raphael gli consente di arrivare terzo. È tutto dalla postazione centrale. Il finale di Archangel Snopata nella testa diुm recupera il countenanza. Il finale di franchQuello annale della testata del Buon multiplizioni, sono K Pronto.